Mantua Wonderfest è una manifestazione dedicata al fumetto, alla cultura pop in tutte le sue forme per cui dal gioco al videogioco a tutto quello che riguarda il mondo dell'animazione, dei manga, dei fumetti americani per cui tutto questo mondo che è coloratissimo all'interno dei locali di Grana Padana Arena con una mostra a mercato ma anche tantissime attrazioni interattive, una grande area con la storia del videogioco sia arcade che giochi domestici da casa e poi due giorni di spettacoli, oggi sabato con Giorgio Vanni domani con Cristina D'Avena e Giovanni Mucciaccio, una serie di doppiatori, la gara cosplay con gli appassionati che si vestono come i loro idoli di fumetti, serie tv eccetera, quindi due giorni di festa dedicati veramente a tutti a tutta la famiglia, per gli appassionati ma anche per tutti i mantovani e tutto il pubblico locale